Gossip, compleanno di Clizia in Corvaia, nude l'op con Francesco Sarcina Gossip, compleanno di Clizia in Corvaia tanta musica con Francesco Sarcina. Clizia in Corvaia in un vestito sexy effetto nude l'op ha festeggiato il suo compleanno in un locale milanese. La bellissima moglie di Francesco Sarcina ha condiviso con i suoi follower le foto di una festa veramente strepitosa la quale hanno preso parte molti amici tra i quali Michael Ronchi e Le Vibrazioni. Una festa piena di allegria e di amore, d'altronde la bella Clizia non ha nascosto il fatto che i festeggiamenti fossero già iniziati la notte prima con il suo Francesco E. Gossip News, Clizia in Corvaia, solare e innamorata di Francesco Sarcina. Gossip, la festa della bloggeri specchia sicuramente la personalità della bella Clizia, solare e con una spiccata personalità, proprio come la Sicilia, da cui Clizia è partita, subito dopo la maturità, per approdare nella nebbiosa Milano. L'incontro con Francesco Sarcina, il chitarrista delle vibrazioni è stato come il lieto fine delle favole e l'inizio di una storia fatta di complicità, sacrificio e amore per la piccola Nina, la loro bimba di due anni. Notizie Gossip, il segreto di una coppia felice Gossip, Clizia e Francesco sono innamoratissimi e le foto della festa ritraggono una coppia affiatata e complice. Quale sarà il loro segreto? Clizia lo ha spiegato tempo fa in un'intervista, per mantenere sempre viva la passione in una coppia, bisogna sempre ritagliarsi lo spazio per stare insieme e trascorrere momenti solo per loro, senza figli al seguito. Infatti Francesco ha già un altro figlio Tobia, di dieci anni. Il regalo più bello? Il grande amore di Francesco. Gossip, tanti auguri, dunque alla bellissima Clizia, appassionata di moda, madre tenerissima e, a quanto si dice, anche ottima cuoca. Cosa avrà regalato Francesco alla bellissima Clizia? Un grande amore è già il più grande dono che una donna possa ricevere e sicuramente Francesco amore per lei ne ha da vendere. Cosa avrà regalato Francesco?